Tantissimo, tantissimo, ci siamo, ci siamo, però ce l'abbiamo fatta essere puntuali. Ma come sempre, ma come sempre, perché noi siamo due Svizzeri. Ah sì? Due Svizzeri. Sicuro che siamo Svizzeri? Siamo gli Svizzeri? Ma io mi ricordavo veramente che era... Vabbè, la sigla... Oh, stasera la sigla è partita. Ma perché mi metti la mano sotto al spugno? Io non lo so. Va bene. Allora, amici, buonasera. Cosa dobbiamo fare? Stasera abbiamo... Noi lo riproponiamo ogni... Aspetta che c'è un giuffo qua. Fin quando non... Allora, pronti? Andrà tutto bello. Insegnatelo anche ai vostri bimbi nel linguaggio dei segni. Ripetiamolo. Hashtag andrà tutto bello. Bene. Ragazzi, è importante questa cosa. Allora... Anche perché abbiamo visto poco fa un ragazzo che interpretava le canzoni famose di cantanti moderni, eccetera, con il linguaggio dei segni. Una cosa bellissima, ragazzi, una cosa fantastica. Bellissima, veramente emozionante. Una canzone... Ha interpretato tutta una canzone con il linguaggio dei segni proprio da brividi. Veramente è bello. Bello, bello, bello. Allora, Ivan Pereira è arrivato. Buonasera, Ivan. Buonasera, Cristian. Cristian, Fulvio. Buonasera, Stefania. Fulvio e Maranzano. Il pulenta col Maranzano. Stefania, io devo ringraziare Stefania. È sempre presente. Perché poco fa ha scritto un commento dicendo... Ho già tutti i piatti nella vostra viglia, la scena fatta, tutto pronto. Io sono pronta. Cioè, l'appuntamento ormai è fisso. Stefania, grazie. Grazie. Stefania Ragno. Sì, Stefania, grazie. Grazie, Stefania. Ma ovviamente dobbiamo salutare anche le amici di Instagram che sono... Teresa Nasello. Ciao, Marco. La prof. Alex Camper. Ciao, Teresa. Una delle nostre vicine convenzionate. Più tardi racconto la storia di Marco Floris e Patrizia Macchini. Massimo Fighiera. Allora, cominciamo a mettere un po' di... di cosi e perché poi magari dice, guarda, lo dicono apposta che... No, ci sono. E li vedono. Buonasera. Buonasera. Marco, noi abbiamo qualcuno sotto che veniamo... Ora, stasera abbiamo una sorpresa. ...una presentazione spettacolare. Allora, abbiamo una di quelle persone. Quando noi diciamo... Lo diciamo sempre. La siciliana... L'eccellenza siciliana. Aspetta. No, no, io sono esaltato stasera. Allora, noi zitto... Noi diciamo... Zitto. Zitto. Ciao, sono esatto. Zitto. Noi diciamo sempre che non ci sono cose importanti. Ci sono le persone importanti. Ci sono le persone... Con quella coppola... Oh, la Franceschina. Ciao. Sì, stasera sicilianità al 100%. Le persone sono importanti con la loro storia. Con la loro storia, con la loro cultura, con quello che riescono a trasmettere. E la persona che c'è sotto, che ci aspetta... C'è il presidente, presidente. Chi? Quale presidente? Ivan. Ah, presidente in quel senso. Senta, Mari. Parle per lei. Quelle persone che riescono a trasmettere... L'altro presidente. Oh, mamma mia. Buonasera, presidente. Buonasera, presidente. Tutti i presidenti. Stasera tutti i presidenti presenti. Quelle persone che riescono a trasmettere... Stai zitto perché ti ammazza a botte. Non solo cultura, non solo emozioni, ma riescono a trasmettere le loro emozioni. Noi abbiamo conosciuto questo giovane, perché comunque è un giovane uomo, tanti anni fa, era il 2013? 2013, esattamente sì. Vedendo il suo spettacolo a Milo, non era solo hip hop, già era cambiato. C'era tutto lo studio particolare. Mi ricordo le musiche di Carmen Consoli che lo accompagnavano nei... Ci siamo innamorati di questa persona per la sua forte emotività in quello che faceva. E noi ve lo presentiamo. Si chiama Giuseppe Marino, in arte Aloscia. Ed è il Danza Storie per l'eccellenza siciliana. La rifaccio, la rifaccio. Mi dillo chi è? È il Danza Storie siciliano. Si chiama Aloscia. E stasera abbiamo il piacere e l'onore di averlo con noi. Giuseppe, buonasera. Io ti metto subito in grande schermo. Così ti facciamo vedere. È una cosa, guarda, siamo veramente felici di averti con noi. Perché noi non abbiamo mai smesso di seguirti. Ma lo sentiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo, vai. Perché noi non abbiamo mai smesso di seguirti, anche se ci siamo persi di vista, ma ti abbiamo sempre seguito. Quindi ho il piacere di presentarti ai nostri amici perché noi ci teniamo a far conoscere la Sicilia bella. Grazie, grazie. Innanzitutto vi ringrazio per il più giovane ragazzo. Sei un giovane uomo perlomeno, no? Se non sei più un giovane ragazzo... Non lo dire, non lo dire. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere l'età. Sono molto orgoglioso per l'età che ho perché ancora sto danzando. Quindi danzare a 50 anni è positivo. Volevo dire proprio questo. La tua prestanza fisica, diciamo, che lascia anche i giovani di 30 anni, diciamo, senza parole. Allora, perché, innanzitutto, perché danza storie? Allora, danza storie, allora, è un termine che mi sono autocognato perché comunque io danzo delle storie, storie di Sicilia. Poi nel 2019 l'UNESCO, dopo quattro anni di ispezione, ha voluto omaggiarmi e darmi il premio proprio sul danza storie di Sicilia. Quindi ho un premio UNESCO e un riconoscimento UNESCO come il primo danza storie di Sicilia. Questo è stato un traguardo molto importante per me perché comunque l'UNESCO, essendo all'interno di questo circuito, mi ha permesso e mi ha aperto tante strade che voi immaginate che la cultura siciliana ha conosciuto in tutto il mondo. Ma la differenza la fa il tipo di linguaggio che io utilizzo, cioè utilizzo un linguaggio coreutico con il corpo e quindi utilizzando il corpo come emissione di storia, racconto le storie invece di farle oralmente con un canto e così via, Io utilizzo dei testi musicali di musica siciliana, sia tradizionale che contemporanea e ne faccio delle coreografie ma soprattutto raccontate con una tecnica inedita, una tecnica nuova e quindi che è basata su una tradizione però il linguaggio più innovativo. Noi vediamo alle tue spalle delle immagini che stanno passando nel tuo televisore, che è proprio l'esempio. Sì, esatto, questo è un esempio, insieme sono in scena con la mia danzatrice che è Giovanna Finocchiaro, a cui io saluto tantissimo una ragazza. Ovviamente salutiamo anche noi, Giovanna. Sì, di 22 anni e quindi in scena sono con un ponte generazionale. Infatti il mio intento qual è? Di cercare di far avvicinare i giovani alla cultura siciliana. Quindi mi sono un po' inventato questo linguaggio coreutico che è un po' più accattivante e quindi non è quello tradizionale legato alla tarantella, al folk diciamo, in generale. Quindi è legato a una scomposizione coreografica che permette un po' a catturare l'attenzione. Non so se leggi i messaggi sotto che arrivano, li leggi i messaggi, riesci a leggere i messaggi. Allora, in serio è il faceto. Ma invece quella di prima aveva detto, anche io non esco, visto il momento, però gli aveva fatto i complimenti come termine fantastico il termine danza storie. Per cui la stessa, fa la battuta dell'UNESCO, ma... Io una domanda gliela voglio fare perché ne parlavamo prima di entrare nel vivo. Io ho qualche tuo spettacolo, l'ho visto e dopo che è successo un evento particolare so che nei teatri quando tu ti vai ad esibire gradisci, non dico che pretendo, gradisci che ci sia una poltrona in prima fila sempre lasciata libera. Una sedia vuota. Una sedia vuota. Una sedia vuota rappresenta un po' la mancanza di una danzatrice del mio gruppo, Giordana Di Stefano, che in realtà raccontava anche lei la Sicilia attraverso quindi la sua danza, la danza siciliana, raccontava un riscatto siciliano. Purtroppo è venuta a mancare, essendo vittima di femminicidio, il suo ex compagno l'ha uccisa e quindi questa sedia vuota per me è un simbolo molto importante perché per me Giordana c'è sempre, c'è nei nostri cuori, ci accompagna sempre soprattutto per la sua sensibilità e la sua cultura nello scrivere. Perché io ricordo sempre che Giordana scriveva benissimo nonostante la sua giovane età, ma poi soprattutto aveva preso a cuore proprio questo riscatto sociale di portare in palcoscenico la voglia di danzare e abbandonare qualsiasi tipo di problema che aveva col suo ex compagno. Purtroppo è finita male e ci è rimasta una sedia vuota. Vabbè, mandiamo un bacio a Giordana e mandiamo un ricordo sicuramente. E adesso invece un'altra cosa. E come a Giordana tutte le donne che purtroppo sono state vittime di queste situazioni così gravi. Invece un'altra cosa che... Poi io dico una cosa, la Sicilia è finbola. Bravo. Allora traduciamo per gli amici che stanno... È semplice, la Sicilia è femmina, non donna, femmina, che è diverso. Quindi invece... La cosa bella che mi appassiona da morire è che io ti giuro vorrei, mi vorrei... Quando appena veniamo a Catania lo andiamo a... Il bastone siciliano. Raccontaci di questa storia del bastone siciliano. Cos'è, chi è, perché, dove, quando e perché. Stai studiando tanto, tu e già fai degli spettacoli bellissimi. Siamo collegati esattamente a quello che ho detto prima. Perché di fronte al monumento che ho dedicato a Giordana di Stefano, che è un monumento che è sito da Ciriale, dove c'è questa sedia vuota, un giorno un signore dell'età di 75 anni si avvicina e mi dice, lei fici una cosa troppo bella, lei ha fatto una cosa molto bella. Io la ringrazio. Mi ha detto, sai perché faccio io? Bravo. Mi ha detto, lo sai che cosa pratico? Io sono un papo bastoniere. Io ho detto, in che senso? Sono maestro di bastone siciliano. E che questa persona anziana, che io conoscevo di vista, però non sapevo che era un maestro di bastone siciliano, mi ha detto questa frase. Quanti anni ha? È 76 adesso. E la dico in siciliano. A mia, uva, stune, ma giù a disegnare nell'aria. Quindi, a me il bastone è stato per disegnare in aria. Quando ho detto questa frase, io mi sono innamorato subito, perché c'era pura poesia all'interno di questa frase. E quindi è nato questo rapporto con il maestro Sebastiano Cavallaro, a cui veramente io ho un certo rispetto, una certa riverenza nei suoi confronti, perché è una pasta antica, ma di una saggezza e di una evoluzione così grande, così all'avanguardia, che veramente a volte il pensiero così più intellettuale non riesce a carpire e a comprendere la realtà come lui la riesce a comprendere attraverso l'uso del bastone siciliano. Una cosa stupenda. Posso farti una domanda. La grandezza di quest'uomo sta anche nel fatto che lui ha il piacere di trasmettere ai giovani, o ai meno giovani come te, scherzo ovviamente, Giuseppe, cioè la sua intelligenza e bravura è anche in quello ovviamente, no? Esattamente. Allora, premesso che l'arte del bastone siciliano è qualcosa che si tramanda. Si tramanda da generazione a generazione e generalmente il maestro sceglie l'allievo che può tramandare questa tradizione, il che la scuola è aperta a tutti del bastone, ma sempre su dieci, magari due, sono quelli che possono portare avanti questa tradizione, perché deve avere una coscienza molto ampia, anche culturale, del legno, no? Ma il legno non inteso proprio in senso fisico, ma della manovra del legno, perché è un'arte... Lo puoi vedere nel frattempo mentre ne parli? Prima ci facevi vedere alcuni bastoni. Allora, vi faccio vedere, questo è un bastone di arancio amaro, che è uno, vedete anche i nodi, come sono ben visibili. Come si chiamano i nodi in siciliano? I ruppi! Allora, questo è un bastone di arancio amaro. Poi c'è un'altra tipologia di bastone, che è quello di ulivo selvaggio, che in siciliano si chiama agghiascio. Ecco, questo è l'ulivo selvaggio. E poi c'è un'altra tipologia, che è questa, che è un po' più, diciamo, di circonferenza, un po' più grande, è del bagolaro, detto uminicucco, praticamente. Sono meno esaltate, non mi riuscite. Allora, brevemente, storicamente vi racconto come il bastone siciliano, le origini risalgono alla domenica spagnola in Sicilia, perché era la pratica, la scherma spagnola dell'esercito spagnolo nelle cosiddette Cumarche. Le Cumarche erano le famose province, no? Che erano segnate dai vicerei. I vicerei avevano un rapporto particolare con il popolo, e quindi non era così astio, diciamo. Le dominazioni in Sicilia tutte non sono state, tranne quella del 1861, mi perdono i piemontesi, però... Mi trovi perfettamente d'accordo? Tranne quella, tutte le dominazioni hanno dato ricchezza alla nostra terra, e quindi erano dei rapporti bellissimi. Nonostante tutto, ci sono cenni storici legati all'editto di Spagna, favolosi, proprio legati anche ai bastonieri siciliani di quei tempi. Comunque, la scherma spagnola attecchì molto nella zona orientale della Sicilia per delle esigenze. Voi immaginate che l'Etna era popolatissima da lupi, quindi non bastavano neanche i cani per poter badare il greggio. Allora, il bastoniere dell'esercito spagnolo insegnò l'arte del bastone ai pecorai per difendersi dai lupi. Infatti tutta la scuola è una scuola ruotata, cioè cosa vuol dire? Che il bastone ruota attorno al corpo, in modo tale da coprirsi da anche un attacco a 360 gradi dei lupi. Quindi diciamo che poi lo sviluppo negli anni fu più agropastorale, cioè i pastori riuscivano a manovrare bene il bastone proprio anche per queste esigenze vere e tecniche. Proprio per difendere, per difesa diciamo. Poi nel tempo i capobastonieri, chi sapeva manovrare il bastone, faceva il pacere tra famiglie e rivali, quindi quello che sapeva manovrare il bastone essendo un'arma a tutti gli effetti perché è un'arte bellissima. Adesso, grazie all'evoluzione dell'uomo, alla sua intelligenza, li trasforma in un'arte, però è un'arma a tutti gli effetti. Diciamo che la tecnica del bastone fu debellata per tantissimo tempo dalle forze dell'ordine perché purtroppo veniva affidata a delle famiglie dei clan che comunque detenevano questo potere di quest'arma e quindi venivano totalmente di nascosto, si allenavano. Quindi era fuori legge praticare il bastone. Scusami, non so se leggi il commento di questa pazza di Francesca Carpinello che come te lei ama il legno, pensa che lei è un architetto della Val d'Aosta che costruisce in legno dei moduli componibili per furgonati e van. Si chiama la ditta Smooth, è una pazza scatenata, mangia solo erba, beve solo vino e poi ha questa mente così esplosiva e crea insieme al marito, che è napoletano, quindi un'esplosione, una miscela fantastica e riescono a creare questi mobili totalmente in legno componibili per i vari furgonati. Una cosa spettacolare. Quindi anche lei è interessata al legno. Il legno vivo dice mantenere la distanza, effettivamente la lunghezza di un legno, di un bastone è di un metro e venti, quindi ci stiamo benissimo. Allora, la cosa più importante per quanto riguarda invece proprio la scelta del legno, appartengono a degli alberi che non danno frutti, cioè c'è questo rispetto nei confronti della natura, che è una cosa fondamentale, cioè l'albero va tagliato in ramo solo quando l'albero sta addormento. Cioè in Sicilia si dice a chianda sta addumendo, cioè nel senso che non è in fioritura, se io taglio un ramo di un albero, di un minicucco, di un arancio amaro, di un olivo selvaggio durante la fioritura, non credete che possa venire così dritto il legno. Assolutamente. Quasi come se la natura si ribelle non lo farà mai diventare dritto. Mentre se viene tagliato durante il periodo di gennaio, quindi dicembre e così via, che non è in fioritura, hai la sicurezza che un legno viene tagliato. Però vi racconto quest'aneddoto. Viene tagliato un ramo ed è tutto storto. Lo shock termico tra l'acqua e il fuoco con una certa leva lo fa diventare dritto. Naturalmente ci sono dei punti che poi potete notare che sono un po' più bruciati rispetto agli altri per cambiare il peso specifico del legno. Una volta che cambia il suo peso specifico, lo testi ruotandolo attorno a te stesso e questa rotazione, se è calibrata bene, vuol dire che può andare avanti. Se non è calibrata, si brucia un'altra parte del bastone fin quando si trova un equilibrio perfetto. Ma attenzione, vengono raccolti questi rami a luna calante, poi vengono tolte tutta la corteccia, bagnate olio d'oliva nelle mani, ma la magia è questa. Una volta che prondo il legno, il maestro che lo fabbrica fa, lo bacia e gli dice ora te ne puoi andare a dormire. Lo lega con altri bastoni mastri, lo fa dormire due o tre giorni, poi lo slega e lo fa roteare. Questa è la cosa. Ma è una cosa spettacolare. Questa cosa è una cosa spettacolare. Hai raccontato queste cose in una maniera, siamo rimasti tutti là ad ascoltarti e vedi i commenti che sono veramente una cosa fantastica. Voglio chiederti però se ci fai vedere anche quello che ti hanno regalato. Quello proprio per te. Dipitto con una maestria fantastica. Noi siciliani abbiamo io credo che abbiamo geneticamente tutti i colori della terra e poi l'espressione si ha proprio anche nell'arte pittorica del carretto siciliano. Ma la cosa sorprendente è che tutti i dettagli che vengono realizzati su questo bastone sono fatti interamente a mano e senza nessuna forma dietro. quindi vengono fatte così effettivamente. E ho visto all'opera di questa ragazza giovanissima si chiama Angela Saverio di Riposto che riesce a decorare battoni, sedie e tanti altri oggetti in questo modo. Quindi l'arte è poi pittorica che è legata a tanti maestri della tradizione del carretto siciliano. Qua noi ne possiamo sfornare vorrei citarne uno in particolar modo perché sono stato coinvolto personalmente a realizzare uno spettacolo per Domenico Di Mauro che morì all'età di 102 anni di ACI Sant'Antonio mini cupoli. Questo aveva una mente così lungimirante che Pierpaolo Pasolini re di Svezia andavano nella sua botteguccia ad ACI Sant'Antonio anche Dario Fo per ascoltare quello che lui diceva attraverso il pennello. Lui pitturava e aveva un suo pensiero particolare. Una persona attiva mentalmente che dal laboratorio conosceva il mondo e il mondo lo andava a trovare. Veramente una straordinaria persona. 102 anni. Domenico Di Mauro andatelo a cercare che sarete delle cose favore. Tu sei fantastico nel raccontare con passione questo tuo amore per tutto questo mondo. Che meraviglio. Penso, mi auguro che tu abbia potuto leggere man mano i commenti che ho messo perché guarda per esempio sono tutti attaccati e ti stanno seguendo questo racconto ma grazie poi sai dalla Malta Rosta sai quando noi oggi abbiamo chiamato questa Francesca che ti facevamo di cui ti facevamo leggere è arrivato e gli abbiamo detto non te la perdere la diretta di stasera perché sicuramente resterai incantata da questa persona che ti vogliamo fare conoscere perché sapevamo che tu avresti raccontato con questa passione con questo trasporto l'arte del bastone siciliano che me lo ripeti siamo anche in videoparty su Custolaci Web grazie me la ridici in siciliano che cosa fa il bastone nell'aria aspetta che ti metto in primo piano eh vai allora innanzitutto il bastone furria perché furriare vuol dire girare rodeare ma la cosa più bella che il mio maestro dice ma giù per disegnare nell'aria cioè nel senso mi ha detto mi serve per disegnare nell'aria cosa di alta poesia istintiva quasi rurale però io penso che la nostra terra e la conoscenza della nostra terra abbia un alto intellettualismo nel considerare le cose quindi noi abbiamo delle eccellenze nella nostra terra che poi sono come dire curate dai solotti intellettuali io faccio un esempio per esempio Rosa Balistreri che era la nostra cantantessa primordiale della nostra terra la prima che si mise in mano una chitarra e denunciò la mafia c'è una donna ed era siciliana c'è una donna che veniva da sofferenze immane e denunciò la mafia eppure è stata trattata malissimo che è stata trattata malissimo cioè accolta da Dario Fono nel mistero buffo come Ciccio Busacco un altro cantastorie di Paternò tra cui lui fu allontanato dalla Sicilia perché andava nel popolo in mezzo alle piazze e sollevava la coscienza delle persone per ribellarsi alla mafia noi abbiamo degli autori io penso che la Sicilia pullula di artisti poeti scrittori che quelli che veramente andavano al cuore della gente che sono più numerosi dell'esercito di quelli che non hanno più senso non mi piace neanche dire la parola mafia perché è una cosa che non appartiene a noi siciliani proprio non ci appartiene per niente a noi ci appartengono le poesie di Buttitta di Pirandello di Sciascia di Bufalino queste sono le poesie che poi animano il nostro cuore quando Buttitta entrava nelle piazze diceva già con due parole di alta poesia diceva voi persone dovete avere la mente come il cielo e il cuore come una piazza la piazza vuol dire accoglienza totalità abbraccio questa è la vera Sicilia e non è la Sicilia delle magliette del padrino e delle tre scimmiette che vendono a Tormina e quando qualcuno glieli vede soprattutto non è la nostra filosofia quella è una e quella è una filosofia di disonore della nostra terra bravissimo bravissimo Giuseppe parlando di eccellenze siciliane quale tu rappresenti è arrivato a salutarti anche Marco Napoli che abbiamo avuto ospite giorni fa grande Marco che lui con la sua famiglia sta portando avanti un discorso di pupare che purtroppo in Sicilia piano piano si sta prendendo io mi ritengo fortunata io mi ritengo fortunata prima ad essere siciliana e ad essere donna e poi mi ritengo fortunata perché la mia terra mi ha dato persone come te come Marco e poi come tutti quelli che tu hai io vorrei mettere anche il maestro a Camilleri vorrei aggiungere Sciaccia ne potremmo aggiungere veramente io volevo dire perché io sono l'ignorante del gruppo fra i due noi siamo un gruppo lei è quella colta io sono la scimmia quella cretina ora giustamente penso che i nostri amici camperisti dicono ma che c'entra tutta sta storia col camper c'entra perché quando venite in Sicilia e parcheggiate il camper in qualche area di sosta che vi consigliamo noi poi ci sono gli spettacoli di Giuseppe a Loscia ci sono gli spettacoli di Marco da andare a vedere in Sicilia perché sono cose che potete vedere solo in quel posto ma vorrei dire anche di più perché Marco a Napoli gira Giuseppe a Loscia gira tutta l'Italia e credo che vai anche fuori l'Italia a fare i tuoi spettacoli e tu hai una scuola in Sicilia e una scuola a Roma se non ricordo male Roma diciamo che il mio punto di riferimento perché da Roma mi sposto in ogni posto d'Italia praticamente infatti a Roma ho fatto anche una scuola di bastone siciliano cioè a Roma ci sono dei miei allievi romani che praticano bastone siciliano così anche a Bologna sì sì così a Bologna poi spesso vado a fare un tour in Veneto in Piemonte qui il Piemonte è una delle regioni che adoro di più la zona delle Langhe Alba Cuneo Asti perché comunque ho un gruppo di persone che mi segue che faccio parecchi spettacoli con la lingua siciliana e la lingua piemontese messe insieme no? è un mondo che si fa fattificarci da 1861 capito? bravo bravo diciamo per trovare vabbè avanti questa cosa non è nulla molto abbuggiamola abbuggiamola ora io volevo dire giusto per stringere boh perché staremo fino a domani mattina qua a vederti ballare perché vediamo nel frattempo le immagini che girano dietro ad ascoltarti perché è un modo di raccontare le cose fantastiche ma quando tutto questo finirà e potremmo ripartire quali sono i tuoi prossimi programmi e dove potremmo venire a vederti allora i miei programmi a parte i canali social che mi auguro che tu voglia ricordare sì allora io io naturalmente voglio considerare il fatto che la cultura deve essere aperta come si apre a tutto aspetta aspetta ci sono allievi tuoi ferma c'è Katia Cuppelloni siamo gli allievi di Aloscia di Roma saluti a tutti ciao Katia saluti e baci a tutti Katia è una grande amica nonché anche allieva perché nonostante che sia il genitore di alcuni miei allievi romani hanno messo su una crew voi immaginate fantastico bravissimo si chiamano i parent school è incredibile è fantastico l'unica crew italiana che fa pratica di street dance è incredibile sono coordinatissime bravissime Katia Katia è il leader quindi saluto con affetto a Katia ciao Katia qua c'è Francesca che ti fa delle domande io non lo so allora le storie danzate cosa raccontano cioè cosa c'è dietro un racconto perfetto allora le storie danzate partono da un principio che si chiama letteratura danzata io per esempio faccio riferimento a Bufalino a Buttitta e a Sciascia molto spesso cosa vuol dire io prendo il loro parlato le loro discussioni i loro dialoghi e li metto in scena e li rappresento attraverso un'arte coreutile che si chiama danza streusa ti spiego da dove avviene questo grazie all'amica Carmen Consoli è nata questa forma di danza streusa perché io ho fatto ho realizzato un videoclip per lei e nel testo da finestra di questa di questa canzone in siciliano di Carmen Consoli c'è detto danza sceusa mi disse tu danza sceusa che in Sicilia vuol dire una cosa strana dal convenzionale in realtà quindi praticamente io faccio una forma di letteratura danzata metto in scena questi autori siciliani e li esprimo con il corpo attraverso una tecnica chiamata popping nella street dance che è scomposizione cioè scomporre il corpo secondo gli accenti delle parole degli autori questo è un aspetto che introduce la musica introduce dei testi molto importanti tra cui io voglio citare fondamentali sono chi scrive questi testi in primis Mario Incudine Rita Botto Francesca Incudine Oriana Civile Alfio Antico Carlo Muratori tanti 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 artisti siciliani che fanno musica siciliana contemporanea ma che la fanno con un riferimento storico culturale ma con dei testi di una poesia incredibile quindi in pratica io metto attraverso questa danza streusa in scena queste storie che vengono narrate dagli autori stessi con le voci originali degli autori anche di Camilleri ma e poi vengono espresse a livello coreutico attraverso delle danze che con questi autori sempre siciliani che ho fatto conoscere in tutta in tutta Italia artisti che magari la musica world è un settore magari di nicchia che nessuno magari in radio sente e quindi c'è una diffusione della cultura musicale siciliana attraverso questi spettacoli Francesca io credo che ti abbia risposto il testo è recitato dagli stessi autori come diceva prima essendo un danzatore io lavoro con dei testi con dei file audio che io ricavo o che mi danno alcuni autori attenzione realizzano dei testi appositamente per me ci sono dei gruppi musicali a cui io mi devo ispirare per creare non so uno spettacolo ispirato alla figura di Domenico di Mauro ha ispirato a un altro personaggio allora la leggenda di Colapesce allora mi devono mi realizzano alcuni brani appositamente per il mio spettacolo allora Giuseppe ricordiamo quali sono i tuoi canali social dove ti possono andare a vedere perché tu oggi mi hai mandato due filmati che io ho messo per nel posto che sponsorizzava questa intervista di questa sera di cui siamo felicissimi e onoratissimi e incantatissimi si può dire incantatissimi incantatissimi siamo incantatissimi bellissimo già ti conoscevo abbiamo avuto modo di passare qualche giornata insieme in altre occasioni se noi siamo streusi ci dovrebbe forse piacere la danza è chiaro mi piacerebbe che tu ricordassi i tuoi canali social dove ti possono vedere e soprattutto i tuoi progetti futuri e dove la gente che viene in Sicilia perché parliamo di Sicilia può venirti ad ammirare perfetto allora innanzitutto i miei canali social sono Aloscia pagina ufficiale troverete sempre le informazioni sulla pagina Facebook Aloscia che è quella principale su Instagram Aloscia Marino quindi mi trovate lì naturalmente sui social sono sempre presenti in attivo anche chi per me quando io lavoro intensamente mi programma e quindi mi aggiorna sempre tutti gli eventi per quanto riguarda gli eventi ho cosa che ho dimenticato che io mi occupo anche dei punti siciliani religiosi quindi cosa vuol dire che io nel periodo di Natale e nel periodo di Pasqua ho due spettacoli a Natale nelle chiese perché è prettamente religioso sui punti religiosi siciliani io vi invito a vederlo perché è molto particolare ed è un proviene da una ricerca immensa sui punti religiosi siciliani del popolo siciliano che sono di una bellezza incredibile quindi Suttambedi di Nucid di Naciulamure è lo spettacolo che si fa sempre durante il periodo natalizio mentre per il periodo Pasquale ahimè quest'anno non si è potuto fare per l'emergenza si chiama Cruci che è tutta dei punti religiosi sulla settimana della passione di Gesù Cristo nelle varie tradizioni e dei contesti quindi della Sicilia è molto bella anche questa questo per quanto riguarda i punti i punti siciliani lo spettacolo che vedete a testaccio qui a Roma dove vado spesso è il Danza Storie di Sicilia questo è il mio spettacolo cardine che siamo in due scena io e Giovanna Finocchiaro una giovane danzatrice e una danza storia anche lei molto brava e poi abbiamo lo spettacolo di Colapesce lo spettacolo dedicato a questo mito ma l'abbiamo dedicato in scena con un ragazzo della Costa d'Avoio che si chiama Musa Cuoyate che ha 21 anni anche lui molto giovane un bravissimo ragazzo è come se mio figlio in pratica e con lui facciamo Colapesce e i migranti del mare quindi è bellissimo una storia una similitudine tra la leggenda di Colapesce e i migranti di queste anime che si trovano sott'acqua e che non hanno una dimora nessuno che li può piangere quindi è veramente uno spettacolo molto bello consiglio di vederlo come abbiamo un altro spettacolo di letteratura danzata dedicato a un giovane scrittore siciliano Rosario Russo che si chiama Il Delitto delle Cartoline lui è un grande un piccolo Camilleri vi consiglio di andarlo a leggere Rosario Russo è un bravissimo giovane perché lei quella culturata capito è lei la culturata quindi scrive lei e poi un progetto bellissimo si chiama Avanti Fo con Giorgio Rizzo Marco Corrao quindi Maurizio Battista un altro puntista percussionista e chitarrista perché io lavoro molto con i musicisti anche con Mario Incudine con Francesca Incudine con Affio Antico cui io veramente adoro tantissimo queste personalità molto importanti si aspetta ora l'estate speriamo che il tour estivo nelle piazze siciliane invita tutti i camperisti di visitare la nostra terra si ferma e avverranno lo spettacolo del Danza Storia di Sicilia noi abbiamo visto già qualcosa noi prendiamo un impegno con te quello di rubare tra virgolette dalle tue pagine e mettere i tuoi appuntamenti nelle piazze o nelle varie nei teatri eccetera per poterli segnalare ai nostri amici camperisti perché chi si trova in giro magari ti becca in quel momento adesso abbiamo messo la curiosità e questo è il nostro scopo quello di mettere l'acqualina in bocca della Sicilia e delle cose belle della Sicilia e tu sei una delle cose meravigliose della nostra bella terra e quindi mettere l'acqualina in bocca e poi devono venire lì a toccare con mano a vedere quello che facciamo e poi leggeremo i libri di Russo ecco hai visto vedi Francesca continuate quindi voglio dire ovviamente io non le capisco con loro si capiscono io non le capisco se hanno le figure va bene se li spieghiamo quindi comunque ricordiamo le pagine di sui social cercate la loscia lo trovate non vi potete sbagliare anche da noi abbiamo messo un paio due filmati di una danza del bastone e sono bellissimi meravigliosi quindi vediamo voglio fare una promozione a quella video del bastone perché si fa l'ho fatto a punta secca che è famosissima l'avevo riconosciuta è una delle spiagge che io amo quella zona è la zona che io preferisco e l'avevo riconosciuta infatti dicevi di punta secca no dicevo punta secca perché punta secca ancora nonostante la fama attraverso il commissario Montalbano riserva quella naturalezza quella capacità quell'accoglienza culturale incredibile e ci sono un segreto a punta secca c'è un agricampeggio che si chiama capo scalambri che ha una spiaggia che ha una spiaggia come quella del video tuo che praticamente non è facile che non è facilmente raggiungibile dalla casa di Montalbano dove noi andiamo col camper e ci posteggiamo proprio sulla duna di sabbia qualche volta rimaniamo dove la notte passano i coniglietti che attraversano la duna di sabbia uno spettacolo quindi ci siamo capiti guarda la nostra terra è meravigliosa quella terra quel posto in particolar modo veramente ancora anche come organizzazione durante l'estate c'è un bellissimo festival del libro si respira un'aria letteraria mi ricordo che anche con buttafuoco a mare in cudine ci sono stati vari incontri culturali nella piazza antistante proprio la casa di Montalbano però ancora si riserva ancora la provincia di Ragusa a questo piacere del Made in Sicily e io lavoro tantissimo con gli spettacoli anche a Ragusa Ibla ultimamente ho fatto uno spettacolo dentro il teatro meraviglioso di Ragusa che è un teatrino meraviglioso è vero noi siamo da un punto di vista così diciamo paeseggistico ha veramente ogni pietra parla quindi ogni pietra parla di una storia e quindi io lo faccio col corpo cerco di danzare questa storia io quando io quando parlo della Sicilia agli ipotetici turisti del nord che vengono in Sicilia io dico sempre che guardare visitare la Sicilia è come sfogliare un libro di storia un libro di cultura un libro di storia dell'arte un libro pieno gastronomia perché ogni passo è un foglio da leggere è una pagina da leggere da capire da vivere da respirare da assaporare da annusare perché così secondo me io la mia terra l'amo perché secondo me veramente dà tanto io sono sicuro che tanti dei nostri amici hanno già preso appunti nelle tue pagine ti devo andarti a vedere cosa venire a cercare in Sicilia perché sono sicuro che hanno sei riuscita a incantare tutti quanti e sono sicuro che come me siamo rimasti tutti lì ad ascoltare e a vedere anche questi bastoni che ci raccontavano qualcosa di particolare allora questo commento di Cettina Marziano che è una di quelle altre donne siciliane intelligenti conosciute in tutta Italia conosciute in tutta Italia perché ha un progetto editoriale per bambini veramente molto 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 intelligente il mondo di Tito e ha detto stasera una cosa che mi riempie di gioia stasera mi sento orgogliosa di essere siciliana di questa nostra Sicilia fatta di cultura poesia e sensibilità e io ringrazio Cettina perché quando lei mi dà queste frasi questi commenti io vabbè che le voglio bene però mi sento anch'io ancora più orgogliosa io credo proprio che è una questione di identità cioè nel senso che per esempio il periodo che stiamo affrontando noi ne possiamo uscire tranquillamente se facciamo un riferimento alla propria identità territoriale perché attraverso la propria identità territoriale e riusciamo a comunicare con tutti con una molta serenità e riusciamo a risolvere tanti problemi poi c'è anche da dire che è una cosa molto significativa noi abbiamo una visione molto olistica in Sicilia cioè tu hai fatto riferimento poco fa al gusto all'arte e così via noi se abbiamo una pietanza un piatto e così via per noi è coreografia scenografia è colore è forma è tutto cioè noi abbiamo una visione olistica del tutto ma una sola frase è quella che noi dobbiamo riprenderci riappropriarci e che non è superficialità non è come dire lasciar perdere no è ancora di più è la famosa frase futtitini bravissimo è fantastico racchiude tutto e vedi ho messo l'ultimo commento che è arrivato che è quello che ci dà il senso di quello che stiamo facendo leggi cosa c'è scritto abbiamo raggiunto l'obiettivo bravissimo abbiamo raggiunto il prossimo viaggio in campo per Sicilia perché comunque è quello che noi stiamo cercando di fare far conoscere la nostra bella terra a tutto il resto d'Italia ma io ti posso dire senza sminuire assolutamente il resto d'Italia che per me è meraviglia stavo dicendo proprio questo tu lo sai bene giri pure tu noi stiamo girando tutta l'Italia abbiamo un forte apprezzamento di tutta l'Italia forse di più di più di chi praticamente perché noi siamo migranti siamo persone che si adattano a tutto io da danzatore da ballerino a meno venti in Kazakistan quando eri in tour per il mondo quando facevo come professione il ballerino avevo un principio di adattamento superiore rispetto non so a chiunque che appartenesse a una città o Milano Torino Roma perché perché noi siciliani riusciamo a trovare il meglio ovunque e l'Italia è stupenda io adoro Bologna adoro adoro Torino adoro veramente le città che io veramente amo profondamente perché tu immagini Roma è la mia seconda casa perché ho tanti aspetti ho diciamo anche la mentalità in un certo senso un modus vivendi romano in un certo senso oltre a noi siciliani però mi ritrovo anche nell'apprezzare tantissimo l'Italia è stupenda e la rabbia forte che ho nel mio cuore che noi possiamo vivere di questa bellezza e possiamo far vivere i figli dei nostri figli e questa è la cosa che fa rabbia per questo l'identità culturale è l'identità del territorio di un veneto di un di un lombardo di un cioè di un romano tutto deve essere l'identità territoriale uno deve essere orgoglioso della propria terra perché questi se si mettono tutti insieme altro che un'idea d'Italia questa è la vera unità d'Italia il sano campanilismo il sano campanilismo assolutamente sono d'accordissimo con te hai usato delle parole fantastiche ci hai fatto vedere e ci hai fatto vivere un mondo particolare sono sicuro che hai suscitato la curiosità di tanti amici che sono collegati miei nostri e tuoi sicuramente che ci stanno guardando e dalle domande abbiamo visto che comunque la curiosità è stata stimolata ed è questo quello che volevamo fare noi non avevamo dubbi non avevamo dubbi era da un po' che ci pensavamo ma io glielo dico da tempo noi dobbiamo chiamare Giuseppe dobbiamo chiamare Giuseppe poi adesso sai quando tu poi ti fermi e dici ok vediamo un po' facciamo il quadro della situazione cos'è la nostra Sicilia chi è la nostra Sicilia vedi che dice Francesca vedi ma lei è polentona ha questi problemi di R ti rendi conto ti rendi conto pensa che lei vive in un piccolo paesino dove ha più di un mese che ha mangiato non c'è neanche la carne perché non c'è neanche la macelleria è disperata ora c'è stato un loro parente questa te la racconto così lì che ha lo possiamo dire ha trasgredito alle regole è andata a lavorare ad Aosta io la volevo camuffare e gli ha portato un po' di carne e tantissimo olio tantissimo olio perché lei pensava voleva vino invece c'è portato olio comunque tantissimo olio quindi avranno modo di purificarsi totalmente dopo l'erba l'olio Francesca dovete venire in Sicilia la vogliamo tanto bene perché dobbiamo andare a vedere Giuseppe a vedere Marco a mangiare il couscous a vedere l'Etna a vedere il teatro di Andromeda a vedere tante di quelle cose la cusaica Taormina è diventata famosa grazie a un pittore del Seicento perché durante una scommessa a Parigi credo questo belga si portò durante questa rassegna pittorica un paesaggio dove c'era il mare e la montagna vicino tutti lo presero in giro no non è possibile che esiste al mondo una terra così che abbia la diciamo le proporzioni no ebbene lui ha detto ok va bene se io dico il falso perdo la scommessa se vingo io dovete acquistare alcune case in questo paesino rurale che si trova sui peloritani ebbene divenne così famosa Taormina grazie a un quadro perché il quadro che noi vediamo dal belvedere di Taormina è questo il mare è la montagna è una cosa vedi cosa descrive Ivan Perrera che tra l'altro dobbiamo salutare che è il presidente nazionale un siciliano un siciliano che gestisce l'Unione Club Amici il presidente dell'Unione Club Amici io a questo punto gli chiederei di leggerla facciamo leggere al maestro maestro leggila tu è in siciliano allora non lo sapete l'amore e non sapete quando vido non lo sapete come chiancio e stai quando quando capi in un momento non vivio è vero allora in realtà non lo sapete l'amore e non sapete quando vivio non lo sapete quando chiancio e stai quando capi in un momento non vivio ma che bravo ma che bella bravo Ivan ma glielo dobbiamo tradurre ai polentoni eh sì certo dobbiamo tradurre traduci bene traduci tu ai polentoni dai maestro fallo tu perché non lo leggo molto bene solo col cellulare allora voi non spero di non sbagliare voi non sapete dell'amore che ho e non sapete quanto vi desidero non sapete quanto piango e sto e sto quando e quanto sto male quando anche solo per un momento non vi vedo ovviamente il voi il voi era rivolto alla donna amata perché il massimo rispetto non si usava si usava il voi sì di cipupi di zuccaro grazie no capito Giuseppe mettiamo cipupi di zuccaro è bellissimo quando uno si dice a una persona mia moglie lo usa sempre si zuccarata è bellissimo è una cosa proprio uno di quei complimenti bellissimi quello che in Gran Bretagna direbbero oh nei no noi diciamo si zuccarato quindi è arrivato pure Francesca va bene Giuseppe noi non ti rubiamo altro tempo sei stato fantastico ci hai fatto un regalo aspetta che Cettina ti vorrebbe abbracciare questo messaggio è per te ti vorrei abbracciare grazie Giuseppe allora visto che sono la wedding del gruppo mi permetto di invitarti al matrimonio di Lidia D'Ernesto con il racconto della Lucida allora siccome anche Cettina fa una cosa molto molto bella rappresentando la nostra Sicilia in tutta Italia io ti invito ed è un progetto per bambini lei cita tutte le scuole d'Italia ti invito ad andare a vedere la pagina il mondo di Tito dagli un'occhiata e poi poi mi saprai io sono sicuro che tu contatterai Cettina perché sicuramente è una cosa lei ha un progetto fantastico dai un'occhiata e vedrai che non vedrai che non mi sbaglio a parte che i bambini io li adoro perché considero che il gioco dei bambini non l'abbiamo assolutamente perso noi adulti no guai perché se lo perdiamo è una violenza che facciamo il nostro essere è da quello spazio che possiamo comunicare non c'è cosa più ranna e più bella di vedere un sorriso dei bambini è stupendo meraviglioso benissimo bravissimo Cettina ti contatterò grazie grazie Giuseppe ci hai fatto un regalo bellissimo regalo di matrimonio grazie non esageriamo ti ringrazio tantissimo spero vivamente di poterti incontrare presto per passare magari qualche momento insieme vedere uno dei tuoi bellissimi rivederti dal vivo perché è sempre un'emozione anche già vederti nei filmati è un'emozione particolare ma dal vivo vi posso garantire che è tutt'altra cosa è una cosa meravigliosa poi da quella piazza di Milo io ho un ricordo particolare della piazza di Milo perché io associo Milo a Lucio Dalla che per me sono d'accordo Milo veramente è magico e quindi ripeto ho questo ricordo del tuo danzare a Milo a parte poi la siciliana che uno può mangiare subito dopo perché poi alla fine come si dice in America gira rota e furria si parla sempre di mangiare e di bere un ottimo vino dell'Etera voglio dire ci sono tante di quelle cose che poi non manca nulla questo è ciò che accomuna tutta l'Italia perché esiste una parte d'Italia dove non si mangia e non si beve assolutamente non l'abbiamo trovata solo in un piccolo paesino della Val d'Aosta che si mangia solo cicoria ma quella è un'altra storia quella è un'altra storia ma quella è un'altra storia Giuseppe grazie ancora un bacio grosso grazie maestro ci hai fatto veramente felici ci hai regalato grazie maestro una cosa a presto ciao continuo a seguirci se ti va se ti va continuo a seguirci noi ti seguiamo un bacione grazie Giuseppe grazie ciao 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 un bacio a casa senza allora ragazzi noi abbiamo avuto questa esperienza fantastica io sono stra felice io ho la pelle d'Oma io sono stra felice allora io sono stato eh anche mi è capitato di per uno spettacolo che stavamo facendo qualche giorno con lui per prove cose andare in macchina con lui a prenderci il caffè vi posso garantire un raduno di modi per essere precisi molti anni fa che non è stato un bel ricordo però abbiamo fatto una cosa bellissima però devo dire che Giuseppe è così è proprio è lui così ti trasmette continuamente questo carisma e poi poi comunque con questa sua calma con questa sua risata molto tranquilla è sempre così e ti dà una serenità potremmo definirlo un one man show perché se tu metti Giuseppe anche da solo o con la sua ballerina che lo accompagna nei suoi spettacoli poi potreste stare ore a sentirlo e a vederlo è una cosa fantastica veramente sia mentre danza che mentre parla poi potreste stare ore ad ascoltarlo e credo che ne abbiate avuto la prova in questo momento Ivan ce l'ha sempre con me Lidia e Tonna Parino e Sciuscia allora noi dopo questa parentesi con Giuseppe che ancora noi abbiamo sotto in backstage sta girando il telefono sta girando il telefono ci senti la cosa ci fa molto piacere però abbiamo silenziato il microfono che non si sa mai qualche brutta parola contro di noi va bene allora io non lo so più cosa dire perché è uno ci ha regalato momenti bellissimi e poi io mi auguro voi abbiate gradito abbiate gradito questa nostra questa è la sicilianità che noi vogliamo rappresentare qualcuno come dicevo prima non lo dicevo per scherzare mi sono messo la coppola anche in onore di Giuseppe perché parlavamo di eccellenze siciliane e quindi mi sembrava giusto ma qualcuno potrebbe pensare cosa c'entra col camper il danzastorie di Sicilia c'entra perché se venite in Sicilia nel periodo estivo o anche durante l'inverno anche Natale e Pasqua lui fa spiegato bene cioè sapete cosa andare a vedere sapete quello che c'è in Sicilia dai pupi al danzatore di Sicilia tante altre cose che pian piano cercheremo di farvi vedere ci sono dei musicisti giovanissimi che fanno reggae che fanno altro genere di musica raccabilli c'è tanto da vedere nella nostra bella Sicilia rappresentata da siciliani e siccome noi abbiamo preso questa cosa di portare avanti il discorso della Sicilia della sicilianità partendo dal mondo del camper credo che tutto questo si possa includere in quello che uno col camper può andare a trovare andando a visitare la nostra bella terra questo è il mio ma mi è uscito stasera la birra grazie la birra a 12 gradi ma noi ora no aspetta Francesca scrive Parrino e Sciuscia no ma non traducete tranquilli tanto noi diversamente del sud che abbiamo tutto allora Parrino e Sciuscia è un modo di dire è replica Parrino e Sciuscia cioè dovrebbe essere così dovrebbe essere un legato alle prediche del parroco durante la messa cioè il parroco che ripete sempre le stesse cose durante quelle magari quelle omelie un po' lunghe un po' stiracchiate un po' annacquate replica Parrino e Sciuscia Sciuscia significa soffiare quando le donne in chiesa durante la calura estiva col ventaglio si soffravano è un modo di dire per dire a qualcuno che ripete sempre le stesse cose quindi allora se Ivan magari ha qualcosa da dire su quello che io come l'ho spiegato allora fai la brava giornalista abbiamo delle notizie da dare diamole per favore allora è comunque vero come dice Sciettina Sciusciti cioè soffiati col ventaglio del Carratois per esempio e Futtidinni allora cioè frega allora siccome oggi è venerdì 17 ma devo dire che bella giornata stasera è stata tutta la giornata la giornata è stata molto carina molto bella oggi abbiamo fatto un po' di fotografie di riprese qua all'agricampeggio dove ci stanno ospitando da più di un mese poi abbiamo la residenza sì c'era Simona abbiamo fatto delle belle cose già avete visto un assaggio un giro con i gatti poi in questi giorni metteremo pure un video carino che abbiamo fatto qua e comunque oggi è una bella giornata abbiamo concluso in bellezza con il maestro Giuseppe Aloscia che ci ha fatto sognare per una bella mezz'oretta ma ci sono delle notizie carinissime allora io ho una notizia importante per tutti i pensionati d'Italia perché c'è un adeddoto da raccontare riguardante i pensionati d'Italia come abbiamo detto ieri da lunedì si apriranno di nuovo i cantieri per cui i pensionati italiani avranno finalmente da fare perché andranno a controllare tutti i cantieri abbiamo detto o con le braccia dietro la schiena o con le braccia a concerto e dipende dalla loro stabilità per quanto riguarda la schiena ma cosa bella veramente simpatico io oggi ho sentito che in provincia di Milano un gruppetto di amici di pensionati ogni mattina cioè pensionati quindi anzianotti ogni mattina scappavano da casa con una scusa della spesa della farmacia per andare a giocare a briscola nel bosco ma loro quando giocavano si infervoravano per cui gridavano si rimproveravano sapete quando si gioca a carte con i compagni quando ci sono le varie liti ebbene i vicini di casa gli sceriffi li hanno scoperti e hanno spifferato al sindaco che questi vecchietti scappavano ogni giorno per andare a giocare a briscola il sindaco è andato là li ha redarguitti li ha rimandati a casa eccetera eccetera quindi pensionati d'Italia unitevi presto tornerete a giocare a briscola e a controllare i cantieri bravo ok aspetta Ernesto ti devo regalare un bel cerchietto ce l'abbiamo eh sì ce l'abbiamo un cerchietto no no non mi fare ecco vabbè ok vabbè abbiamo tutto mentre un'altra notizia che devo dare intanto facciamo sempre un in bocca al lupo al nostro amico Rino di Camperisti Sicilia Club che sta lottando lotta continua a lottare ce la farai sicuramente perché sei forte e quindi mandiamo un bacio alla moglie Melania e a bimbo cerchiamo di avere sempre notizie continuamente e mi raccomando forza che ce la fai tranquillamente e poi allora io avevo letto invece avevo scritto un'altra notizia che era quella dove era dove era dove era c'è lo stromboli di nuovo in attività e c'è stata una frana lungo la sciara del fuoco fonte visitare Sicilia ma diciamo che la diciamo che continuamente si fanno sentire questa è una una cosa ormai a cui abbiamo fatto l'abitudine ma del resto senza il nostro stromboli la nostra etna che Sicilia sarebbe l'importante è che non fanno danni se danno spettacolo va bene ah sì allora qua Cettina scrive qualcosa qua la diretta è terminata condividi nella storia è ben utile riprendiamo su Instagram va bene io poi altre notizie io sono contenta la storia dei parrucchieri fai da te ragazzi allora scusate io sto vedendo stiamo vedendo cose sto vedendo che siccome hanno chiuso i parrucchieri dal 9 marzo dal 10 marzo e che quindi hanno le ricrescite i sberfucchi e cose varie ho visto scene Don ha tagliato i capelli ad Alex poverino e lasciamo bene ciao Gioia ciao Gioia oggi Cristian gli ha tagliati ha tagliato i capelli a sua moglie Monica sì tuo figlio si è fatto tagliare i capelli dalla figlia del marito di sua madre un casino ragazzi stanno venendo fuori dai tagli delle cose spaventose c'è delle foto all'uscita calmatevi fra un po' anche perché questi poveri parrucchieri quando riaprono si troveranno delle situazioni catastrofiche anche mia mamma ha tagliato i capelli a mia sorella ecco me le ero scordate io mi volevo scusare con tutti gli amici che man mano sono entrati in diretta con noi e man mano li vedeva entrare ma non potevo salutare perché c'era Giuseppe che stava facendo i suoi bei racconti quindi non volevamo comunque salutiamo tutti indistintamente tutti quelli che che ci sono che sono entrati in a vedere la nostra diretta sono stati tanti ecco bravo Riccardo ci fa piacere questa cosa ecco mi dianchecettina ha tosato Pietro ecco quindi oltre a tosare a Giango vabbè ma tosare Pietro è facile perché voglio dire da una passata e via quindi comunque allora domani è sabato quindi non si va a scuola sabato e domenica non si va a scuola già da tempo non si va a scuola quindi volevo dire noi dobbiamo andare a fare la spesa quindi non faremo diretti sabato e domenica come sapete riprenderemo lunedì sicuramente lunedì avremo qualche novità interessante naturalmente vi faremo sapere e poi martedì e mercoledì abbiamo degli appuntamenti siamo ospiti da qualche parte lunedì vi daremo tutte le informazioni speriamo daremo tutte le informazioni per ora io credo che possiamo chiudere così alto che è successo oggi volete sapere quanti bimbi sono nati dai dillo così chiudiamo con la sigletta oggi sono nati 1162 bimbi auguri buona vita ragazzi auguri a tutti buona strada grazie per ora è stata a casa poi ripartiamo grazie a tutti grazie ciao mamma lunedì ci vediamo lunedì alle 21 e 15 Fulvio che puoi ah li ha tagliati lui a Samantha la diretta da su vabbè no 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 con la mascherina i guanti ragazzi buonanotte soprattutto è finito il vino e dobbiamo andare a fare la samba 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 Grazie.